piccola lite sul numero della chiave vediamo un po' la 22 è precisa Emiliano perché se è 24 c'ho la lente non dico Sant'Antonio perché chiamiamo un po' di rinforzi qua permesso ci sta? vediamo il braccio d'Eric se è dinamometrico vai scatta ma non sapremo se l'ha fatta assai o poco eh no se scatta la serratura è quella eh Emiliano diccelo su per piacere diccelo un po' allora ora andiamo all'andare qua andiamo all'andagista raggio gomma parte seconda abbiamo difficoltà di visibilità qui ci vuole un po' di luce cioè voi siamo ciechi voi stiamo senza luci ma è teorettica troppi pochi secondo penna mettiamo lo svitolo ai bulloni ci sta in sede? col guanto mi sembra il dottore guarda col guanto bianco da dentista proprio andò c'ho la mascherina però perché le polveri dei freni sono tossiche qua ho le cose che forse vanno fatte bene proprio niente eh ma stiamo a giocare mica eh qua sono cose grosse amico perché non mi piaceva da 10 guarda è tuttavia non mi piaceva da 10 eh? non ci va ci va lo stesso organo non ci dà ah no stai spingiando un po' qua ci va la chiavetta che ci va la cresce qua dove è? a questa a questa è fatta ma non è rotta no sta da qua la tua cosa è dolce oh ma non è che ci avanzano gli pezzi no? eh? e via beh guarda tu stai ecco l'uomo dinamometrico vediamo 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 poi voglio vedere controllo lascia fa c'ha il braccio eric c'ha il braccio ti vedi? eh perché questo è alluminio sa che vada in un certo modo perché poi si blocca da sopra c'ha il polso c'ha il polso lascia fa questo sta apposta di qua no? non lo so questo non è no dico tanto no questo qua mi va qua dentro si si quello va dentro svitolo a volontà a volontà che lo svitolo non si paga eric si ma la luce mica l'appiccio no non l'appiccio no non l'appiccio no non c'è niente non l'appiccio spento c'è della magica troppo spese di piano dovevi girare la moto però secondo me eric lo svitolo con i guanti però eh perché è corrosivo vedi i cicciarelli vedi i cicciarelli come si protegge? stai in sede la pinza la cicciarelli pinza e cacciavite per non andarla dentro i cicciarelli ti ha fatti i corsi sulla sicurezza eh ti fermo? che ti serve la cacciavite spaccata? si eh? si si ha spostato la pinza la pinza l'allargai visto in giro vabbè comunque gomma montata quindi diciamo che il 90% no ha appicciato la luce cicciarelli eh 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 siamo finiti ha appicciato la luce così può sposerlo il 90% del lavoro è fatto eh vediamo un po' che gommetta qui slick questo è da vista un po' cicciarelli però eh sta molto vedi che devi mettere il cuore e chi ci vede appena immaggia la miseria ma come si fa qua che pallo questi occhiali chi ci vede mannaggia santo lì che vita che avanza chi ci vede chi ci vede chi ci vede sta bene Antonio vedi lo sai qual è il problema che tu non ci vedi più di me è questo di problema che tu mi dici va bene ma non ci vedi non è che tu sei tanto più sta bene tu vuoi favore che ci vedi ma non ci vedi tu sta bene fammi dai che tu mi stai ficcando eh ma vedi fammi ficcando vedi sei più giovane capisci vedi io l'ho mai l'ha sempre fatto guarda come ficca bene hai visto la prima botta va eh ma chi ficca si vede qua però eh ando stanno subito senza di fichirle i ragazzini di 12 anni i ragazzini di 12 anni tenne più a ceruella giusto per dirlo eh aspetta ci mettiamo ci metto un po' di grasso no? si si ingrassiamo un po' io stavo per fare la scuola del coso vedete il bolloncino e stai facendo anche non l'ho fatto un po' di grasso stai litigando con sti cazzo di sbitole eh stai a fare guerra no? prova la gomme niente con la cera senza cera che ci facciamo eric dobbiamo avere il responsore va a provarsi i gomme dai caschetta la cosa corretta sarebbe che ci andassi io a provarla è chiaro vuoi andare? di quello da dorso io che cazzo ne capisci ma più che altro chi sa guidare la moto è così tu ah si no quello è indubbiamente che è diverso dai allora oh ti aspettiamo un attimino per il responsore eh fa una cosa veloce proviamo sti commetti allora sono le ore 17.30 17.33 non è che abbiamo stato un po' inquietato questa cazzo di prova no no una provetta si semplice semplice mi raccomando c'hai un quarto d'ora di tempo eh un paio di frenati 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 puliscile eh vai frena frena ma come frena? vabbè allora ci avevamo dato un quarto d'ora praticamente 43 è uscito a 33 sono 10 minuti non si vede niente all'orizzonte ciccerelli non si vede non si vede ma diciamo che hai da fare la prova in pista fai una zoomata agli elicottero potrebbe essere lui è andato di là è andato di là è in alto l'acella vola ci si vede oh all'orizzonte non si non si vede i cicciarelli come la vedi sta prova il cicciarelli secondo te che sta fa? positiva sta fa le pieghe sinistra a destra frenata accelerazione eh si è ah no no vediamo vediamo aspettiamo che torna responsore dai dai l'inizio naturalmente non è che poi intanto l'abbiamo già pulita sta commetta ok guarda guarda arriva tranquillamente a terra praticamente hai già messo il ginocchio per terra arrivo a terra senza no ma guarda non si è fatto un cazzo da parte qua qua ci sta il manico no ma che manico come vanno va benissimo dopo lo sai che quando è nuovo eh eh devi ripidere la mano perchè è talmente rotonda che tu sbasta che la trovi va subito che l'altra la dovevi spingere questa è la teareggia perchè l'una volta si sta neva a terra vibrazioni la sensazione vibrazioni cose no no vibrazioni perfette la volta l'ho provata pure l'ho tirata a 190 la richiedina che fanno la sola ah sì e non ripeto da niente la cosa che mi sembra rispetto a quell'altra che essendo una doppia V questa ah ah ti dà la sensazione effettivamente che la che è più la cacazza è più dura quindi è più stabile come vabbè questa mola la devi provare quando la devi provare quando vai no? ma però la prima impressione mi sembra ottima eric ah sta a fare sta ancora a fare aspetta aspetta allora intanto il cicciarelli ha detto che la moda è perfetta è già iniziale e quindi è già un complimento per chi ha installato le gomme chi l'ha installato le gomme l'ho pure tirata qua a prestigio 190 solo che non si muove lasciando lo stesso ti devo fare notare una cosa però eric scusami questo a Villa del Poggio ha pulito le gomme guarda qua arrivata a Villa del Poggio io ha pulito le gomme tu praticamente ci hai fatto 50 mila chilometri e le gomme ancora non si sono pulite il famoso centimetro della il famoso centimetro della vergogna quello resta a casa comunque vabbè tu dica cosa devi dare abituarci da Dio Lui io sono talmente rosolivo che anziché il tavola te la regge perché una botta non si rietta a terra va e basta bene qua sembra più questa ma stai che sento più a buco mi sembra la calcassa si ma meglio però eh perché prima sentivo più la come la terra a buco è buco è buco e si sente però eh secondo me qua ci vuole la prova del tecnico però eh muovato muovato ahahahah 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 va bene operazione conclusa non mi sta niente pure a sterzo lentato non vibra no a sterzo lo lasci a mano libera va quindi ci c'è l'impressione della T31 della Bridgestone Bartomach T31 per il momento è eh ottima poi vedremo con il chilometraggio parliamo dei tecnici però diciamo che c'è stato anche un montaggio ad hoc c'è un tecnico qui non indifferente un non indifferente questo si è adoperato adesso vediamo che la luce è accesa inutile il lavoro è stato fatto al buio attenzione è andato ad equilibrarle da una pasca eh non contento che era uscito 0 e 0 che gli sembrava strano chi pensa ci diavolo da metto non contento che è uscito 0 e 0 ci ha fatto paura che la statica di equilibratore e quel peso ce l'ha messo si e la moto non si muove bene complimenti allora il pit stop è andato perfettamente è andato perfettamente fai una zoom sul pit stop là e chiudiamolo pit stop caffè fai una zoomata un poco però fai una zoomata un poco però dai youtube time te sté prime parola pergui доп※ qualifikat i